Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose che vi scorte. Le prime tre terzine per significare quasi tutto l'impatto di quest'uomo che si descrive al singolare nel secondo verso mi ritrovai per una selva oscura ma che ha aperto a tutti noi spettatori nel mondo nel mezzo del cammin di nostra vita la sua esperienza. Ecco l'uomo di mezza età di allora i 35 di allora sono come i 45 50 di oggi che si è smarrito che non trova più se stesso però attenzione non è soltanto Dante a percepire questo smarrimento ma è tutta la sua epoca anzi direi che sia proprio il mondo occidentale che Dante vede nel suo smarrimento e che oggi a sette secoli di distanza ha raggiunto qualcosa di analogo se si pensa allo smarrimento in cui viviamo e Dante in questo primo canto ci descrive subito la sua scenografia verbale che è tutt'uno con praticamente la sua sensazione questa selva oscura questa luce tenebrosa ecco dovrà arrivare Caravaggio per restituire una luce così tenebrosa come quella che viene appunto dipinta da Dante grandissimo architetto grandissimo pittore scultore artista completo in questi canti che risuonano appunto nella commedia che vanno interpretati sì in maniera scritta ma anche recitati sentiti in questo straordinario endecasillabo attenzione sempre con l'accento sulla decima se no non è endecasillabo bene e Dante ci confessa praticamente questo suo più profondo smarrimento e poi ce lo descrive attraverso l'incontro con le tre fiere la lonza questa lonza leggera e presta molto che rappresenta la lussuria vabbè la lussuria in fondo non è neanche un peccato così grave lui la frequentava ce lo dice praticamente tra le righe poi però arriva il leone la superbia è lì e Dante insomma aveva anche qualche ragione di essere un superbo però è pur sempre un peccato anzi il primo di tutti i peccati come si dirà nel purgatorio ma poi arriva il peccato più terribile e che rappresenta appunto la lupa questa lupa questa avarizia che è qualcosa di più di avarizia in senso mondano ma proprio ciò che provoca l'angoscia ecco la possibilità di un coniugarsi in questo canto della paura con l'angoscia il non poter più andare avanti e Dante è fermo laddove intravese qualche cosa e un'ombra qualche cosa che forse lo può salvare e allora si precipita verso lui mentre chi rovinava in basso loco dinanzi agli occhi miei si fu offerto chi per lungo silenzio pare a fioco quando vidi costui nel gran diserto miserere di me gridai a lui qualche tussio d'ombra o d'omo certo e naturalmente si tratta di Virgilio che risponde risposimi non uomo uomo già fui ed i parenti miei furon lombardi mantoani per patria ambedui si presenta Dante finalmente riconosce la sua ancora di salvezza e lo chiama veramente come il poeta più grande la possibilità proprio per lui di andare avanti Virgilio lo invita a tenere questo altro viaggio in cui vedrà appunto i dannati dell'inferno e i purganti del purgatorio poi però arriverà qualcun altro che lo accompagnerà nel paradiso e qui la prima autodescrizione malinconica di Virgilio ma Dante accetta subito Dante accetta subito e dice subito poeta io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti a ciò che io fugga questo male peggio che tu mi meni là dove or dicesti si chioveggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti allora si mosse io li tenni dietro ecco questo voler proseguire dietro di lui per tutto il tempo questa etica che Dante dà a se stesso tramite Virgilio e qui comincia la grande grande avventura della commedia grazie